Il caso dei calcinacci caduti a scuola è stato ridimensionato da crollo a distacco d'intonaco. Si tratta dell'inchiesta per crollo colposo che ha interessato la scuola media Italo Calvino di Via Volta a Sanremo. I fatti sono avvenuti nel mese di aprile dello scorso anno. È stato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione. La disposizione del magistrato è giunta in seguito alle conclusioni della perizia affidata all'ingegner Guido Sirolli, che ridimensiona in termini giuridici appunto la caduta della controsoffittatura. Quindi niente crollo ma distacco d'intonaco. I calcinacci se fossero finiti su una persona tanto da ucciderla o ferirla gravemente, cosa che non è avvenuta, avrebbero cambiato l'accusa in omicidio o lesioni colpose. Il pezzo caduto non è sufficiente a definire l'evento un crollo, ma appunto solo distacco d'intonaco. Nell'inchiesta indagati ci sono l'ex dirigente comunale Giampaolo Trucchi e l'ingegner Giuseppe Terracciano. Confermata comunque dal perito la lesività. Infatti gli uffici di Palazzo Bellevue erano stati allertati dalla ditta incaricata per le verifiche nelle scuole di Sanremo della pericolosità e che serviva un intervento immediato. Ora aspetta il GIP cogliere l'archiviazione o al contrario disporre altre indagini.